Cosa è una fiera molto importante nel mondo delle costruzioni? Quindi vogliamo portare a tutti i clienti e i prospect di questa fiera questa idea e questo nuovo modo di lavorare. Abbiamo voluto con questo stand portare quelli che sono i nostri valori, a partire dalla sostenibilità con Kindoff che è un nostro cliente che porta delle sedie fatte di tondino, dove riutilizza questo materiale per dare vita a un design innovativo. Oltre alla sostenibilità è molto importante l'innovazione, l'innovazione è alla base di IDECOM, noi studiamo quelle che sono le tecnologie che ci sono nel mondo in questo momento e cerchiamo di capire quali sono quelle di più valore e le portiamo per i nostri clienti sia a livello consulenziale che di utilizzo nostro. Un terzo importante valore che vogliamo portare è questo concetto quindi di portare tutte le competenze nel mondo manufacturing, dicevo prima, quindi l'industrializzazione nel mondo della costruzione. Digitalizzato ma la digitalizzazione non è abbastanza, è importante la competenza. Oggi ci sono centinaia e centinaia di strumenti che fanno tante cose, sembra che facciano tutto e tutti possono fare tutto, però è importante capire come utilizzarli. Quello che dico sempre è inutile che inventiamo qualcosa che è già esistente, quindi guardiamo chi l'ha già fatto prima di noi, capiamo quelli che sono questi vantaggi e riutilizziamo adattandoli ovviamente a un settore che è leggermente diverso, ma adattandoli quindi ai processi che possiamo applicare noi.